vai sto filmando tutto alla faccia di ricco io sono capace abbastanza sarebbe bene non farlo vedere tu resista con la mano o qua del dietro? semplicemente qua del dietro basta però perchè così si vede la mano eh è uguale cambia niente ma sai che era finita la roba? no non ce la posso fare sai che non ce la puoi fare le? dai eh? ah si l'ho finito ieri giochi da piromani eh 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 se se we wash my sins away Meghi queste vanno a finire su internet oh no 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 su internet no si si guarda guarda le candele ma si vede ti togni ah 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 non lo scusa ma comunque Ilaria sai che ci ha detto? ci ha detto iniziata che se non troviamo un parcheggio loro ci hanno in garage e ha detto tu me lo dìci e ti faccia mettere il giorno no dov'entrano al garage davanti a la sera vanno a essere andata al garage va a essere andata al garage basta un po' Buongiorno